Allora, noi eravamo arrivati a un certo punto di questo percorso con Marina Abramovic, ricordo la body art, il corpo che diventa sia dell'autrice, in questo caso dell'autore, sia del pubblico che entra a far parte dell'opera d'arte. Se vi ricordate, avevamo visto come c'era proprio una cornice di pubblico, di folla, con una luce, un'illuminazione, all'illuminazione, al posto della firma c'è proprio l'Abramovic. E avevamo visto anche come questa performance, The Artist is Present, era stata preceduta anni prima da quest'altro momento realizzato in diversi musei e anche luoghi pubblici del mondo, in cui i due stanno assolutamente fermi, immobili per più tempo, finché addirittura, avevamo visto che lui dovrà essere ricoverato in ospedale. Questo è l'antefatto, no? Un inciso per capire cosa verrà dopo. Allora, siamo in Cina, questo è il percorso della muraglia cinese che i due fanno a piedi in oltre tre mesi. Azzurra è la linea percorsa da lui, Maschietto, Ulai, e quella rossa da lei, Marina. Partono da due punti molto distanti della muraglia cinese per incontrarsi poi tre mesi dopo in questo punto. The Lovers, gli amanti, ha un significato preciso, riescono a tenere dopo parecchie otto anni il permesso da parte del governo. Per farla molto breve, queste sono due immagini appunto del cammino lunghissimo, anche faticoso, dei due. Cosa succede però? Questo cammino rappresenta l'incontro del destino di due persone che si amano, ma nel frattempo lui si è dato alla droga, alla beve, e soprattutto la tradisce con l'interprete cinese, la mette incinta e tra l'altro poi la sposerà. Marina, quando lo incontra, in lacrime, in realtà si rende conto che quello non è l'incontro degli amanti, ma il punto di addio. Proprio queste sono le foto. Lei, in lacrime, avevo 40 anni, ero grassa, in realtà non è vero, era brutta e nessuno mi voleva. Quindi l'uomo che era amante, amico, performer, coartista, eccetera, è finito tutto, è chiuso tutto. Ho perso l'uomo che amo e il mio lavoro. Ho voluto mettere una foto dall'alto della muraglia cinese, perché la muraglia cinese non ha niente di per sé di eccezionalmente artistico. E' nell'insieme, la rivedremo poi nell'Allendard, questa immagine. Ma che significato ha? Perché è affascinante, perché è lunghissima, ed è come un segno continuo nel paesaggio, vedete? Questo è il territorio, questo paesaggio segnato. Però, se voi ci pensate bene, queste montagne, queste valli casuali, potrebbero essere segnate anche in un altro punto. Se avranno scelto queste, probabilmente c'era un motivo. e dà l'idea proprio di una molteplicità di possibilità infinite che però fanno sì che due che si amano si incontrano, come una linea del destino che porta a quell'incontro, da due punti lontanissimi. Io racconto sempre, penso alla vicenda mia di mia moglie, io sono nato a Venezia, lei è nata a Firenze, e ci siamo poi incontrati. Le possibilità, i genitori cambiassero residenza, fare la stessa facoltà di incontri vari, e veramente erano vertissime. Quindi come una linea di destino. Questo è molto interessante, questo aspetto. L'altro aspetto è questo. Due che avevano affidato tutto il loro rapporto all'istintività, alla passione artistica, ma non a null'altro, sono destinati dopo parecchio tempo a una delusione coccente. Ok? Adesso torniamo alla performance. Torniamo a Marina seduta, e succede un avvenimento, un qualche cosa che lei non si aspetta. Il direttore del museo decide di invitare un altro con 34 anni. Eccolo qui, ormai vedo. Lei non lo sa. Lì che si concentra. Alza lo sguardo. Senti tutto quello che ti passa, ricordi le tue commozioni, dolore, e infine lo perdona. Perché quello che esiste è l'unità. Pensate, il perdono messo in arco nessun quadro, nessuna scrittura dovrebbe stato in grado di rendere così. e la vita che entra nell'arte è proprio consono all'idea della performance. E poi e poi proseguo. Anche la stanchezza. guardate in trent'anni come è cambiato lo sguardo. La stessa performance, lo stesso guardarsi dura nel periodo ideologico della durezza del sessantottino militante e la vita in mezzo. per entrambi. Per entrambi. E tra l'altro sono più teneri dopo il tradimento. Paradossalmente. Alcuni commenti. come risultato ci trasforma. Lei parla sempre del qui ed ora. Questi sono tratti dall'intervista. L'arte, dice l'Abramomich, è un obiettivo secondario. Il vero obiettivo è un prodotto di amore. E poi dice, potete ancora leggere voi, ma la cosa più bella secondo me è che è questa. ci trasforma in qualcosa di sacro. Non posso spiegarlo. C'è qualcosa di inspiegabile in tutta l'arte c'è qualcosa di inspiegabile e lei lo ammette. Ma non è un'attrice. Ripeto, c'è qualcosa della sua capacità straordinaria di guardare l'altro con gratitudine. Ciò che chiunque, anzi, è la dimostrazione del nostro desiderio necessità di essere guardati con totale gratitudine per essere felici, per essere infatti sorridono. I tentativi un po' sciocchi devo dire che la gente poi fa di ripetere questa performance sono ridicoli per me. Ci si guarda e basta. Non è guardarsi in faccia quel che è successo e qualche cosa di più e infatti sono giustamente da stati in giro. Quando l'Abramo mi è venuta a Firenze a Palazzo Strozzi c'è stato un fatto, un fattaccio. Lei era lì mentre passa questo signore prende questa specie di tela e gliela spacca sulla testa. Lo arrestano eccetera eccetera. Lei però non ha mai voluto denunciarlo. Perché? Perché questo fa parte dell'arte e lei dice no. No. L'arte è anche questo. La performance è l'imprevisto. La vita è l'imprevisto. Aggiungo anche un'altra cosa che quando hanno rifatto la stessa performance quella dei due nudi con la gente che passa in mezzo al al MoMA di New York c'erano due due attori due ragazzi e una ragazza e un signore deve aver come si dice strizzato i gioielli del maschio e questo ha pensato bene di denunciarlo in questi giorni c'è il processo dopo parecchio tempo ma c'è il processo in realtà è un errore l'Abram non l'avrebbe fatto perché lei accettava tutto ciò che succedeva e quindi quella denuncia che ha fatto esposto quella denuncia non ha capito e non era nella parte proprio per niente un'altra performance che alza il premio del leone d'oro alla biennale di Venezia è Balcan Baroc che cosa succede? succede che c'è la guerra nei Balcani una guerra terrificante scoprono le forze comuni una cosa e lei invitata a Venezia diciamo cosa faccio? non posso non pensare a ciò che succede e allora prende tantissime grosse ossa di di bue e comincia a pulirle con una spazzola Venezia caldo umido giugno una puzza terrificante che c'è stato diceva che da lontano si sentiva questo odore mosche ma lei per non mi ricordo più quanti giorni una settimana con la sua resistenza incredibile ha continuato a fare questo guardate guardate che razza di mucchio di ossa insanguinata sfinita a noi fa orrore ma quelle sono ossa di animali questa è una performance ciò che stava succedendo in quei giorni là nel suo paese era era lo stesso macello di uomini e sempre rimanendo nella performance of body art un'altra performance che ha vinto il premio under 35 della biennale di di Venezia una guatemalteca ho voluto mettere la piantina del guatemala perché non tutti sanno dov'è e raccontare questo nel guatemala c'è stata una guerra civile durata 36 anni 36 anni nessuno ne parlava nessuno la conosce e durante questa guerra civile avvengono tutte quelle nefandezze che poi si verificheranno in cile argentina eccetera in questo caso di mezzo ci vanno gli indio soprattutto in questo scontro da guerra fredda perché letteralmente era una repressione interna da parte del governo ma centrava la guerra fredda allora lei che cosa fa questo è il premio under 35 vedete la 51esima esposizione internazionale dell'arte allora tra le tante sue performance questa questa l'ho trovata interessante lei ha di fronte il libro con gli atti i nomi di tutti quelli condannati per i crimini e gli orrori che sono stati perpetrati con le vittime è un librone molto grande adesso agli atti processuali un dentista va da lei e ogni tanto comincia a farle un'anestesia vedete in bocca lei continua un'altra anestesia continua e un'altra anestesia finché a un certo punto non riesce più a parlare cosa vuol dire questo il suo popolo stava dimenticando ciò che era successo il presidente che era stato condannato viene poi si ripresenta alle elezioni presidenziali eccetera come se nulla fosse eccetera è un modo per risvegliare la coscienza di un popolo che era stato anestetizzato ci si abitua a tutto diremmo oggi bombardano Kharkiv o solo tre morti in fondo normalmente ce ne sono di più si fa il callo a qualsiasi cosa no è proprio questa anestesia che non è solo della bocca ma proprio del cuore del sentimento poi ha fatto anche cose molto più estreme guardate questi sono lei che subisce le torcune alcune e non così atroci torture del regime e fa vedere anche il modo in cui venivano incatenati eccetera e poi ricoperta di terra di schifezza ecco qui viene lavata con questi getti potentissimi che appena catturati vengono vengono sottoposti e addirittura in pubblico si fa orinare addosso da uomini e donne perché era quello che succedeva in quelle carceri e succedeva di molto peggio un'altra performance questa scusate questa è invece cubana cubana è figlia di un diplomatico ambasciatore di Fidel Castro quindi un personaggio importante che cambierà il suo cognome come forma di protesta del padre pur professale andosi sempre marxista eccetera tra l'altro ha insegnato anche a Venezia l'Accademia di Venezia uno delle suoi tanti modi di di farci percepire la vita non la rappresentazione astratta è questa questi sono davanti a musei o gallerie o anche dei teatri a un certo punto lei fa chiudere guardate con queste saracinesche a metà della coda metà delle persone rimangono fuori e intervengono questi sono attori polizia a cavallo con manganelli eccetera eccetera e li caccia via sono esclusi alcuni dentro altri fuori perché non lo sanno ma come si fa a far percepire una persona che è esclusa che nel mondo ci sono miliardi di esclusi alle cose che noi diamo per scontate solo i teatri la scuola eccetera e se lì fuori ma ha fatto anche di peggio di peggio tra virgolette di nuovo un modo efficace per risvegliare una coscienza che alle volte è rischiosissima questo le è costato il carcere lei torna a Lavana vedete questa è la piazza della rivoluzione con i ritratti di Marx e dice che varia che cosa fa raduna artisti personaggi eccetera e per un minuto ognuno può dire ciò che pensa al microfono ciò che pensa ciò che desidera dura poco interviene alla polizia e li arresta tutti successivamente grazie alla petizione di migliaio di artisti di tutto il mondo viene liberata viene liberata dalle carceri terribili carceri dell'Havana ma lei e questo è coraggiosissima dice io non esco se non liberate tutti gli altri e se non mi permettete in futuro di tornare a Lavana un inciso in questi giorni mi sono state fatte da delle persone di contratto alcune domande per esempio sulla lezione precedente che materiali vengono usati per creare quando l'iperrealismo realizza queste opere allora io ne ho ripresa una in cui si vede proprio che è vetroresina all'inizio è vetroresina dipinta oppure con materiali particolari polimeri particolari adesso si usa più che la vetroresina hanno migliorato materiali sono materiali d'avanguardia sempre questo campo di resine particolari e questo mi ha permesso anche di riprendere un concetto che io allora non ho non ho non ho espresso cioè primo che per ottenere questa questa vera somiglianza si fa il calco questa non è una modella sembrerebbe l'artista di Maria che cosa fa di Andrea scusate che con il gesso fa il calco della modella è vero si faceva usava questo sistema e poi con la colata di vetroresina eccetera la cosa interessante ma sfiora il ridicolo è che questa è già la la statua e questo anche non è non è lui non è l'artista ma è una sua riproduzione e ho voluto ricordare che siamo in piena tradizione non c'è nulla di nuovo perché di nuovo il significato questo è il sacromonte di Varallo dove in occasione del no scusate che nel 500 il tardo 500 è stato il primo sacromonte dove non era possibile continuare con i pellegrinaggi in terra santa vengono ricreate con statue ad altezza reale verosomiglianti con capelli veri le scene del evangelico dalla natività fino alla crocifissione di Cristo e i pellegrini potevano salire questo monte e passare vicino a questi personaggi che erano già iperrealiti guardate questo è uno dei pastori che guarda in alto questo è il sogno di Giuseppe in una stanza che è quella di allora nell'arredamento anche che erano impressionanti alcuni di questi erano dei personaggi noti per esempio il sacromonte di San Giulio d'Orta ci sono proprio i notabili di allora sono rappresentati in queste sculture la differenza qui c'era uno scopo ideale potremmo dire educativo ideale quello non c'è più nel novecento c'è una critica ai difetti dell'epoca appunto ma è come se non si sapesse più dare dire un positivo un ideale non c'è più d'altra parte l'arte è come una confessione mostra ciò che è la società di quel tempo così possiamo riprendere la questione dell'allenda arte l'altra volta avevamo visto la spirale quella gigantesca spirale nel lago salato oppure quei pali piantati in un alto piano per catturare i fulmini disegnare attraverso i fulmini famoso Cristò e la sua compagna Jean-Claude sono i più famosi ma in realtà giovani di quelli che abbiamo visto prima sono i continuatori anche se all'inizio non partono in quella che si chiama l'allenda arte e qui ho bisogno di un'introduzione anzi le immagini tutte queste immagini ce ne saranno tante che sembrano non centrare nulla con l'arte in realtà aiutano a capire come guardare queste cose allora questa è un'opera di Menrei vedete questo è un qualche oggetto impacchettato di nuovo partiamo dal dadaismo la lezione l'hanno fatto l'anno scorso in cui sembrava semplicemente una come si potrebbe dire una specie di stranezza solo provocatorio in realtà è l'inizio di tutta una serie di nuovi linguaggi un qualche cosa di nascosto impacchettato allora io mi soffermo un attimo proprio sulla questione del pacco e del nascosto pensate un regalo senza il pacchetto tieni tu vedi subito ciò che c'è perde tutto il suo fascino perde l'attesa l'attesa è un fattore fondamentale adesso lo vedremo per cui ecco che ti incuriosisce cosa ci sarà lì dentro nasconde l'aspetto misterioso assieme all'attesa lo rende interessante pensate all'uovo di Pasqua l'uovo di Pasqua e la sorpresina la sorpresa che c'è dentro l'uovo di Pasqua normalmente è qualcosa di ridicolo io mi vengo da bambino alle volte è anche una delusione ma come la si cerca perché è dentro è nascosto ed è sorpresa lo stesso oggetto preso e dato a un bambino tieni sarebbe ridicolo non avrebbe dignità la busta la lettera è la busta l'aprire è una busta che cosa c'è dentro pensate io ho un amico che è disabile abbastanza grave cui piace molto ricevere delle lettere non tanto le cartoline e le lettere quando gli dico che forse il postino potrebbe aver portato una lettera lui si lancia a tutta velocità col deambulatore non gli stiamo dietro prima cammina lentamente invece quando sono queste cose si lancia e apre la busta con che di voluttuoso poi una volta che ci guarda dentro lo tiene è finito tutto per la busta vedete vedere che espressione o il pranzo una tavola imbandita al ristorante in cui si attende la portata di volta in volta o il self service al di là della qualità spesso scadente hai già tutto lì e invece l'attendere una portata dietro l'altro tra l'altro ha una valenza educativa importante per i bambini questo dell'attesa l'attesa del Natale l'attesa del regalo l'attesa del pranzo del pranzare assieme anche se da questo punto di vista io non sono un buon esempio ed ecco il suo la sua opera del 67 quindi inizia proprio a impacchettare degli oggetti che cosa c'è che cosa noi non riusciamo neanche a capire cosa c'è dentro anzi guardate come è annodato per passare poi a degli oggetti un po' più impressionanti ah sì questa è una rivista di moda solo per far vedere come poi queste cose queste intuizioni artistiche vengono usate molto spesso dalla moda qui siamo vicino a 14 chilometri da Sydney in Australia dove impacchetta un'intera costa di un'isoletta impressionante quasi 100.000 metri quadrati di tessuto guardate quanti chilometri di corda la costa che diventa un'altra cosa assume un'altra forma o ancora più impressionante il Reichstein impacchettato con questo tessuto argentato volutamente un edificio veramente molto brutto il Reichstein veramente brutto allora non era ancora in uso impacchettato sia per da una parte può festeggiare la riunione delle due Germani e lui l'aveva pensato in realtà molto prima nel 71 ma anche come gesto si potrebbe dire di silenziamento pensate cosa succede negli anni di Hitler e guardate cosa si trovano i tedeschi di colpo questo fantasma gigantesco guardate che belli questi mulini a vento questi tessuti che si muovono col vento il mulino le vele delle regate storiche lo spinnecker della barca vela quando è gonfio che sono delle sono delle cose meravigliose noi di fronte a queste foto ma dal vero di più rimaniamo incantati o la potenza del vento in certe regate guardate che bello sono spettacolari se uno mai assistito a uno spettacolo del genere rimane incantato questa è solo una foto tessuti tessuti e vento o quelli del vegliero la bellezza del vegliero le vele al vento sono una cosa incredibile anche da dietro e questa questa trama di cavi incredibile ci incantano le bandiere coloratissime bandiere le pubblicità non a caso alla feste ci sono gli sbandieratori allo stadio questa è la Roma io non sono un tifoso della Roma eccetera ecco allora da qui in poi vedremo come l'uso di questo tessuto e del vento sia una caratteristica delle opere di Cristò e di Jean Claude questa è una land che si svolge lungo 40 chilometri questo è il progetto un fotomontaggio 5 metri e mezzo di altezza di tessuto 200.000 metri quadrati 2000 pali 144 chilometri di tiranti d'acciaio per ottenere i permessi 42 mesi 18 udienze 450 pagine di rapporto sembrato ambientale anni per ottenere cose di questo genere crea e cosa fa? crea una cortina lunghissima 40 chilometri che attraversa il nord della California che uno dice ma che roba è e voi pensate a quel che vi ho detto non va guardato come opera d'arte carica di segno no guardate questo segno sul territorio questa è la trivella i pali non hanno sono nel terreno non viene rispettato l'ambiente quindi non vengono non viene gettato cemento no? l'elicottero uno a uno più di 2000 pali questi cavi è un lavoro immenso vi dà l'idea no? la grandezza che segna proprio il territorio e questo biscione incredibile che si snoda e racconta chi l'ha visto che in queste zone vedete come sono irregolari c'è non soltanto molto vento ma ci sono dei turbini ci sono quindi delle zone che in cui il vento tira da una parte e poi dall'altra e sembra realmente un serpente che si muove poi il suono il fischiere del vento dei cavi lo sbattere di questi teloni è stato qualcosa di impressionante guardate che bello dove c'è la strada si interrompe ecco guardate come è gonfio no? qui si butta nel mare come un serpente con la testa nel mare ecco qui ed è la stessa cosa scusate che ammiriamo nel caso della muraglia cinese la muraglia cinese che è un muro poco di più non ha nulla di bello in sé è un segno nel paesaggio questo ha uno scopo difensivo la land art ha solo uno scopo estetico o di messaggio ambientale ma non ha uno scopo utilitaristico è bellissima proprio dal punto di vista del paesaggio la bellezza delle dighe questa è una diga gigantesca sul fiume Colorado guardate le macchine queste sono le macchine guardate che roba piccolissime è spettacolare ho preso alcune di queste foto che altre mi è sempre affascinata una volta questa è una diga veramente affascinata è qualcosa di imponente al tempo stesso sono tornato sulle bandiere ma quelle gigantesche hanno la passione per questi standardi immensi che ci piacciono ci colpiscono ed ecco questa cortina nella valle di Colorado 400 metri di cortina gigantesca sembra una diga o un'immensa bandiera messa lì qua sembra addirittura a bloccare il paesaggio guardate che roba tra l'altro tutte queste opere sono autofinanziate si vengono costosissime vengono finanziate poi dalla vendita dei disegni dei diritti eccetera con materiali riciclabili alle volte si vendono anche propri materiali dura poco perché il vento in questo caso la stappa è talmente grande talmente potente il vento che strappa tutto e dura molto poco e guardate rispetto alle persone che opera è incredibile dodici isole isolette vicino a Miami circondate da questo alone rosa si svegliano e vedono a Miami e vedono una cosa che non hanno mai visto ormai erano abituati a vedere queste isolette adesso le vedranno in un altro modo si accorgeranno un grande che Giuseppe Franci le ha paragonate alle ninfee le ninfee al contrario perché le ninfee sono verdi fuori e rosa dentro le ninfee di Monet complicatissimo costosissimo guardate le dimensioni questo è un motoscafo sono un motoscafo anche molto grandi ancoraggi e tutto anche questo è un materiale riciclabile Gates i cancelli New York di nuovo 37 km di sentieri con questi cancelli poi vedrai poi ne parliamo più approfonditamente guardate che bellezza perfettamente equidistanti eccoli qua si passa sotto guardate che roba come disegna l'ambiente di Central Park addirittura io l'ho paragonato al domino infatti vedete l'equidistanza perfetta questo è il sistema per evitare di forare i sentieri sono solo appoggiati e questo è il tori giapponese che lo ricorda anche nel colore il tori che cos'è il tori è una porta la porta che è generalmente davanti a un luogo sacro a un tempio quindi un cancello che delimita uno spazio sacro ma ce n'è uno in particolare possono essere anche molti di più questo è un percorso sempre in Giappone ed è un percorso di purificazione e che cosa succede che siccome questa zona è dedicata a una dea della prosperità uomini riusciti ricchi uomini giapponesi in genere passano qui e poi acquistano e donano alla divinità uno di questi portali purificazione e porta fortuna diremmo per la prosperità futura il molo guardate che voglia sia lungo la passeggiata sia che voglia di buttarsi nel mare di buttarsi andare verso o il riflesso del sole questo ponte verso il sole verso l'orizzonte questo ponte di luce verso l'infinito che questa è un'opera di Munch e noi lo ritroviamo nell'opera straordinaria del lago di Zeo guardate che roba questa passerella che attraversa il lago per chilometri e ci fa camminare sull'acqua ci fa camminare sull'acqua e su quel raggio di sole il sole del tramonto più di un milione di persone l'hanno percorso vedete sono dei blocchi snodati in modo che quando si cammina si muovono il passaggio dell'uno passa uno vicino sento l'acqua che si muove è veramente come camminare sull'acqua ne sento l'odore ma magari sono anche in mezzo al mare non è al mare scusate al lago è un'emozione incredibile per chi l'ha non è solo il molo è un'emozione è un'emozione è un'emozione è un'emozione è un'emozione